Le varianti del coronavirus mettono paura anche alla Toscana. Secondo l'Agenzia regionale di sanità un paziente contagiato dal covid su quattro sarebbe risultato positivo per via appunto di una variante del virus. Ma è una regione a due facce dove il confine sud con l'Umbria rimane osservato speciale. L'ultima frontiera è quella di Sansepolcro in Valtiberina che si avvia a sottoporre la sua popolazione ad uno screening straordinario di massa. Nella prima giornata, quella di martedì, a sottoporsi a tampone saranno 1160 persone che dovranno passare da un walkthrough allestito in via Saragat nell'area del palazzetto dello sport. Quattro ritorni disposti dall'asile sud-est. I test sono aperti a tutti i cittadini residenti ma anche agli studenti di fuori comune che frequentano le scuole in città e alle persone che lavorano a Sansepolcro anche se residenti fuori comune. È un interscambio lavorativo, scolastico che sicuramente facilita la diffusione del virus e che rende le zone di confine particolarmente fragili nei confronti sia del virus in sé sia di una possibile variante che in Umbria è particolarmente diffusa. Se in Valtiberina si rischia di piombare in zona rossa, chi da rosso può dirsi immune è il comune di Chiusi, almeno per ora. Uscito dall'incubo è iniziato il 7 febbraio per alcuni casi di variante brasiliana dal Covid. Qui lo screening ha evidenziato 46 positivi su un totale di 5.469 tamponi effettuati in cinque giorni su un totale di 8.000 abitanti che potranno adesso tirare un sospiro di sollievo ma non certo rilassarsi dal momento che il comune della bassa provincia senese sarà comunque zona arancione come il resto della Toscana.